ciao e benvenuto sugliera un giro attorno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi voglio farvi vedere l'unboxing di questo orologio di un micro brand il pacco mi è arrivato da pochissimo tra l'altro forse non c'è neanche bisogno del coltello prima di iniziare come sempre se mi piace quello che state vedendo anche il supporto con un like iscrivetevi al canale per non perdere nessun video magari il coltello questo giro non serve questo si tratta tra l'altro di un prototipo in quanto il brand potete vedere borealis mi ha inviato questo orologio appunto che è un prototipo rispetto a quello che sarà in commercio tra poco al momento è partito il pre order a 150 dollari che è il 50 per cento del costo del prodotto gli altri gli altri 150 dollari si pagheranno in un secondo momento togliamo le pellicole aspettate ma c'è il chichierino molto carino vi dicevo è un prototipo che cosa che cosa differisce in questo momento c'è l'nh35 ma nella versione che poi sarà inviata al pubblico non ci sarà l'nh35 ma l'nh38a quindi senza la parte di disco data questo ovviamente per evitare che ci sia lo scatto tra virgolette chiamato fantasma quindi lo scatto data che non vedo se c'è qualche altra pellicola che non vedo no ok l'orologio è molto carino possiamo toglierci i guanti carino anche questa pochette in cui viene inviato che diventa un porto orologi molto carino c'è molta profondità è bello anche l'effetto realizzato probabilmente poggiando più dischi il quadrante vedete che ha una parte verde blu e una parte poi bianca l'effetto tridimensionale deve essere stato realizzato così crea anche la sfera dei secondi con la punta blu devo dire che è un bell'orologio devo dire che è molto bello ben fatto anche pesante fondello ovviamente a vite parliamo di un diver ho dovuto neanche caricarlo visto che era già attivo e c'è una bella vediamo cosa c'è mi sembra una sirena voi cosa dite cosa dite una sirena andiamo alla corona di carica fermo macchina andiamo a ghiera vedete la realtà un orologio simpatico facciamo prova al polso voilà molto molto carino devo dire la verità che è molto carino anche più rispetto alle immagini che avevo visto in rete che cosa ne dite cosa ne pensate fatemelo sapere qui nei commenti io vi aspetto qui o sui canali social del canale ghiera telegram sono chi più ne ha più ne metta vi saluto vi ringrazio per aver visto questo breve video di unboxing ci vediamo al prossimo video vi auguro una buona giornata ciao